E' bello a tutti ragazzi, io sono ItalianGamerita024 e oggi siamo qui con Jackstar e l'L1221Y20 E oggi siamo qui per giocare qualche partitina in annientamento in che io ho... Vabbè, un po' di tutto, ecco Ragazzi, facciamo qualche partita e vinciamo E vediamo un po' di più del Milo Mart E vinciamo, vabbè! Vabbè, io mi metto ascio perché quando attiva la super lascia tutti quei topolini stra fastidiosi Ragazzi, mi raccomando, niente citazioni Eh, appunto, tu sei stato il primo a farlo Eh, vabbè Questi sono dettagli, ok? Eh, tanto Aia, aia! Madonna, c'è mamma mia! All'Edgar con un colpo l'ho sciolto Mamma mia, sei troppo fuori Cioè, con un... con mille di vida l'avevo lasciato forse con un colpo, eh Mori! Ma mannaggia, l'Edgar! Ma io... ma io lo scomunico To! E chi c'è il fa? Topolini andate a ballare sulle spiagge I topolini vanno a ballare sulle spiagge E che c'è... com'è che si chiama? Ehm... Albano No, non è Albano Sì, Albano No, non è Albano No, non è Albano I delfini vanno a ballare sulle spiagge Speriamo solo che non vado a... che non c'è... che non sia col copyright In ogni caso non voglio usare i consigli col copyright, eh, solo questo voglio dire a YouTube Nessun intento di usare il copyright, perché il copyright è brutto È bravo Jack Star, aiutami ogni tanto Ogni tanto? Ma pure se facciamo il copyright ormai, visto che abbiamo tutti iscritti, non succede niente È tipo 3G video col copyright Dai! I delfini Hanno rimandato il ballo sulle spiagge Hanno rimandato il ballo Questa mi è piaciuta io non voglio usare il bombardino però mi fa schifo la fortuna di jack star anche io mi metto il bombardino vero raga io invece se gli sto troppo ho trovato bombardino d'oro che me ne faccio la skin di bombardino as per questa skin bombardino non è bravo quella anch'io lo trovo troppo sì ma che me ne faccio io voglio usare la skin di un altro brawler nessun fang però comunque il primo era bello mi sono un po scocciato ragazzi andate assolutamente iscriverti al loro canali se no arrivo a casa vostra e vi picchio la stessa cosa anche per i loro canali eh ovviamente vi taggo qui sotto aspetta io ma mi cerco di mettere nila poi vediamo che succede con nila vediamo l'ho provato ad usare prima lele non è andata proprio bene però vediamo se la uso io che succede la cacca la cacca si si questi tengono la fama marziana e saturiana mi sa ma sai almeno quant'era la fama saturiana più della marziana è più della marziana quindi più della lunare e più della mondiale è un casino cioè sto qua gioca dal medioevo a lei bravo ma sai possono essere anche dei cacca eh sì non li puoi shoppare i crediti tranne se ti dà l'offerta dei trofei però adesso non li puoi shoppare i crediti bravo ma ovviamente cioè ho detto tranne quello dei trofei ovviamente le offerte di 10.000 trofei 8.000 avemus sconfittas amigas e amigos io ballare e giocare a mia casa per contigo na na cipi cipi ciappa ciappa dube dube daba daba magico me dube dube bom bom e coppia ci arriva sai dove mi dispiace ma non posso dirsi di dirlo no 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 e con me non coppe perchè ne sennò perdo tutta la vita ah 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 però sai che stai cantando con la melodia del cuore abbiamo ciocco fama lunare uno e comunque fama eh sì tutti hanno shoppato allora fammi capire tra le antifrole come si giocca eh sì li puoi anche aver sbloccato con i crediti oppure dalle casse molto tempo fa tu lo puoi sapere lo puoi sapere dimmi jackstar lo puoi sapere ma non per forza curami byron ma non ho capito perchè byron cura gli altri ma non cura se stesso veramente così generoso ah 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 abbiamo trovato il fang più forte di jackstar ci dobbiamo sostituire bro mi dispiace ma ti dobbiamo sostituire ah 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 abbiamo trovato il fang più forte oh dovrebbero fare una competizione per fang un fang che ha ucciso jackstar ragazzi non si può vedere eh ma chi l'ha ucciso a lui eh sì ma tu sei morto due volte da lui tu una una volta bello 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 oggi è bravo bravo si raga però ci devi togliere fang ti devi togliere fang perchè sennò siamo nel fang togli fang te lo usi da solo tu sei bravo con l'altra gente noi siamo scarsi ti ricordo non lo toglierò mai e fu così che jackstar persa 5 miliardi di coppe e quindi si ritrovò a fare l'emosina per le coppe ma continua ad usare e continua ad usare ah 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 ma sai che hai perso più di 100 trofei almeno lo so e allora che cosa continua ad usarlo amico scusate raga guardate quanto sono in debito con brossasti coppe fammi vedere il profilo spero guardiamo il profilo 4267 coppe e si ma guarda la lineetta arancione per l'arancione scuro il debito il mio punto più alto eh non mi può mi ho perso tutta il mio ninja le posso vedere un attimo è il mio club ah figo l'ho creato io niente ti vuoi dire ma ragazzi io non lo so che ve l'ho detto voi dovete entrare in un club perchè cioè ma lo sapete che vi dico ora mi creo il mio di club oddio crea club tanto a mille monete io non le ho paura a spendere dai nome del club che nome diamo al club eh ital italian club italian 024 club si può cambiare una perfetto emblema come emblema mettiamo questo descrizione club di italian 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 024 aspetta l'ho scritto male no dimmi allora metto mille aspetta 1200 trofei necessari per favore adatto ogni età si ok ragazzi ho fatto il mio club quindi ragazzi io vi aspetto entrate 90 quindi ci sono posti allora ci sono 29 posti comunque quindi io vi aspetto molto 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 posso parlare? si puoi parlare e tu parla allora sapete che ora ci sarà un complotto no? in che senso? che il team di jack star lele 12 21 e italian gamer rica saranno in complotto no non voglio andare contro di te si perchè devo che posso andare? vabbè vabbè va niente siamo pronti? eh va bene siamo così da parlare così da un'ora prima eh si vabbè però io ho creato il mio club comunque io vi aspetto vi ricordo eh comunque ci sono ci sono ancora 29 posti belli belli potete entrare quando volete tanti ehm inta gamer inta dimmi 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 ma quant'è che costa fare un club che non mi ricordo? mille molina mille molina vabbè intanto io ne tengo 11.000 quindi non ne ho problemi io ho 25.000 ok mettiamo pronto jack star si potrebbe fare 35 club ehm vabbè vabbè comunque tra un po' credo che ehm appena arrivo a mille co a mille gemme si a cento gemme non ci arrivere mai a mille ma quanto ero? mille o cento? siiii io non riesco a farmi le 50 a mille io non riesco a farmi le 50 la 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 Concentratevi guys Ogni morte costa caro Ogni morte qua Non è gratis Bisogna pagare un prezzo molto alto La sconfitta Curami Ok grazie Guarda quanto si fa Ma guardalo E poi dice E poi si lamenta Ma per me sei già abbastanza forte No ovviamente nessun jackstar E' stato discriminato O non è stato aiutato Durante la produzione di questo video No Nessun jackstar E' stato schiavizzato Curati Byron Non posso Ma non curare a me Sono full Guida Non mi serve Non lo so come puoi fare Per curarti Devi avere pazienza No La mi avresti dovuto Guidare La mi sarebbe aiutato La cura Cioè mi sarebbe stata D'aiuto Vai jackstar Perfetto Perfetto One take down Alla sconfitta Yeay Abbiamo perso Ragazzi i brawler più bassi E sto mettendo i brawler più bassi che ho Che ci posso fare Ma per me normale Che ti ingerindo esegendo troveglia E poi mi ritrovi colette Cioè Byron con due Colette con dicendo Aspetta ma Byron Alla fine Alla fine era sblocca Oh oh Me ne sopprò Vero che tu stavi sbloccando Byron Aspettate i boys Ragazzi siamo in Bot Lobby Siamo in Bot Lobby Se perdiamo in Bot Lobby Io sclero Perché abbiamo browler Bassi Oh ehi 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 Non laggare No perché abbiamo perso così tante partite Ah è vero No mi sa che questo è No non è il copyright Però non è il copyright Ah no Ah is love Baby don't Dai giura che se il signor Jerry Scott ti metti il copyright Non so eh Perché questo Jerry Scott ti l'ha cantato Sì Ah is love Ah is love Eh What is love è uno Ah is love è Jerry Scott Ma ragazzi Ma quando ho letto Corretto non è male alla fine Come browler Ma no la forza si sta uccidendo Mister Sara Ok raga Questi io non ho la fama Ma non è molto alto Si vede che hanno appena cominciato Mondiale 1 No non ne ho la sai Sono abbastanza Casi qui Non è Non è Sì Ammazza È vero 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 Stavo per dire che stava andando tutto bene Stavo Ma di brutto ma stai schierando Ma come attraverso il muro Non sclerare Non sclerare Comunque raga questa è l'ultima partita E poi mi diamo il video qui Ok Ok Con solo una storia Eh lo so Che scrive Stavo Ma un po' lo scrive È vero È vero È vero Ma voi si venite allo stesso Vabbè tanto lo vedo nello stesso Perché c'è il club Vabbè ragazzi Si sentiamo in un prossimo video E ciao 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 Ciao